Ciao ragazzi eccoci con un nuovo video continuiamo con questa playlist dedicata al metaverso e vado a rispondere un po' alle vostre richieste nel primo video di questa playlist avevo chiesto ditemi cosa volete che faccia all'interno del metaverso e questa prima volta andiamo a provare una cosa che mi è stata chiesta da molti di voi ovvero fare a botte in un certo senso fare box in particolare mi hanno chiesto fare box e quindi vedremo due giochi di bugilato in cui andrò probabilmente a prendere un po' di botte allora partiamo metto l'oculus prendo i due controller se li trovo eccoli qua eccoci come iniziamo come sempre il nostro ambiente virtuale mi ricorda molto le montagne di gran canaria questo paesaggio bellissimo andiamo quindi sul menu apriamo la prima applicazione e come prima applicazione useremo creed che è molto famoso è stato proprio quello che mi avete richiesto cioè in tanti mi avete detto usa creed facci vedere che fai botte con creed allora iniziamo da questa e poi vi faccio vedere anche l'altro è molto realistico e la prima volta che l'ho usato ragazzi mi sono veramente spaventato a morte ho tolto il visore ho detto no vabbè troppo questo perché c'è un ergumeno enorme gigante come vedete abbiamo i guantoni abbiamo le nostre braccia guardate che belle braccia muscolose si vedono anche le gambe se guardo in basso e adesso iniziamo a fare sul serio ok guardate che figata anche questo effetto nuvole intorno c'è super realistico immersivo ecco qui c'è tutte le mie gambe le mie braccia i miei guantoni andiamo avanti ci siamo eccolo guardate che figata queste sono le mie braccia intorno c'è tutto lo stadio cioè immersivo a livelli ragazzi incredibili incredibili guardate che bei pantaloncini che ho dai vieni solo che vedete quanto è grosso fa veramente impressione sto tizio paura vieni vieni fenomeno capitai super vieni vieni che c'è qual è il problema mamma mia quanto è grosso ragazzi è incredibile guardate super definito sembrare verlo veramente qua davanti vieni 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 che adesso mi picchi non credo che ce la farò ragazzi ci provo vieni vieni oh cazzo affanculo cazzo insomma ha sfondato affanculo affanculo con due di sfondo non ce la fa più grande ragazzi l'ho messo a terra la prima volta nella storia vieni 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 oh cazzo 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 mi ha sfondato citti citti tutti poni che lo sfondo ah che due tutto cazzo è alto questo non ci arrivo ah ce la faccio più oh cazzo dai che tu prendo in faccia che lo rompo ah ce la faccio più oh state buoni ragazzi eccolo il campione vieni 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 mamma mia fiatone oh round 2 sono arrivato al round 2 ragazzi prima volta credibile vieni vieni che mi fai il culetto come più di prima sta giro oh no madonna questo è andato tutto incazzato affanculo no 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 mi devo sbrigare per tornare su sul ring dai che ce la faccio dai che ce la faccio dai che ce la faccio muovi do una crocca in bocca a questo oh oh orca miseria dove mi ha mandato oh 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 zitto mamma mia sto sempre qua sì c'è il rischio che vai a spasso per casa vieni vieni e vuoi altri vieni qua oh vabbè ragazzi io c'è guardate che molleggiamento di gambe tra l'altro vieni vieni non posso andarvi vicino a minacchita oh no non ci credo ragazzi è la prima volta che vinco a questo gioco top direi che per questa prima esperienza non è niente male ho preso le botte male ho anche date ok usciamo andiamo a un altro gioco qui dal menu entriamo in fight questo qui l'ho comprato l'altro era una demo questo l'ho comprato qualche giorno fa costa una stupidaggia 10 euro o qualcosa del genere e questo è molto carino perché effettivamente uff sto morendo ragazzi effettivamente diciamo si gioca contro delle delle persone normali non con dei mostri ecco faccio la foto mi fanno la foto perché c'è tutta una preparazione e onestamente non pensavo di vincerla quella partita ragazzi grande portate bene allora ok start match questo è un po' più umano in teoria io pensavo di perdere con quell'altro e vincere con questo quindi adesso quest'altro grande questo è il mio coach devo cliccare qua continua ecco oh questo è già arrivato uff che miseria che panza che c'hai sfondo capirei se ho battuto quell'altro a questo lo sfondo proprio vaffanculo mi vai giù eh vedi gli sta uscire il sangue dalla faccia aspetta aspetta mi riposo un attimo che sto veramente rotto oh che cazzo fai oh 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 lo sfondo amma mia l'ho sfondato uff vieni vuoi altre vieni 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 qua sto ehi oh non capisco perché mi arriva subito sotto così senza riavviso eh ma se io 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 faccio crossfit ti sfondo lo vorrei prendere sulla pancia e poi dagli una serie di sbattivaccia vaffanculo mi dovrei coprire pure io ogni tanto eh guarda eccolo eh eh sì sì certo vieni vieni che te le do in faccia spacco la faccia vieni qua mamma mia quando quando casca a terra questo vaffanculo eh dai che è cotto a posto ragazzi ci siamo e diciamolo chi ha vinto chi ha vinto dillo dillo tu eccolo a posto ragazzi direi che posso fare exit che sudata ragazzi che sudata comunque ecco ho esatito i desideri di una serie di persone mi viene in mente Rita Luigi che mi aveva detto prova in un gioco di box ecco fatto col fiatone se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se non siete iscritti al canale iscrivetevi a questo canale e soprattutto commentate ditemi cosa volete che faccia nel prossimo video di questa playlist ciao alla prossima ciao